ciao ho preso il nuovo album degli Stray Kids nella versione Miro e Klee non ho preso la limited edition perché il negozio non c'era allora iniziamo da questa che non so quale versione sia però non c'è scritto vabbè iniziamo dalla versione rossa oh ma io bambini che bella tutta sfocata 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 ringraziamenti molto bella e significativa soprattutto ah no niente proprio sono fissati ringraziamenti 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 andiamo dopo che bello che è un bel tunnel no spero di me è così ah sbagliate ok vediamo che abbiamo trovato annucciolo vedi a fuoco oh yonjin oh yonjin comunque credo che ci sia un errore perchè sono quattro in teoria dovrebbero essere tre vabbè ce n'è un vabbè niente ce n'è una in più pace e ame vabbè sembra la versione gialla questa qui gialla ok dietro è rossa benissimo le canzoni qua devo ancora ascoltarlo eh l'album per ova della title track mi piace un sacco un patatino mi pareva strano di averlo ancora trovato trovo sempre lui dentro e un patatino e un patatino belle quelle sfocate cosa stanno guardando io prima puoi riuscirò a trovare anche te bias dei miei stivali ma perchè c'ha sui guanti tra l'altro comunque mi piace un sacco il suo maglione col dino sacco ok grazie a me eeeh 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 eeops eeeh 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 ancora i disini che sono identici a quello dell'altro che abbiamo qui oddio no questo non capisco cosa sia No, non capisco, ma ecco, qui è uguale o è diversa, si è uguale, identica, piaciucata. Ok, qui sappiamo questo qui, ecco ti Eugene, che pareva? Amore, caldo. È un minuto. È un minuto. È un minuto. ok